Padre, posso parlarle un momento? Sì, chiaro, ma adesso ho un problema, possiamo fare più tardi? No, guardi, più tardi no, è importante adesso, davvero. Va bene, mi dica. Allora, tempo fa lei mi ha detto di pregare tutti i giorni e io l'ho fatto, però non è cambiato niente, la mia vita è sempre la stessa e io non so più che senso ha la mia vita. A piani per te, puoi salire e accendere il motore? Va bene. Grazie. Adesso! Ma quali piani? Non so, aiutare gli altri. Ho aiutato Anna. Anna, chi è Anna? Anna io, me stessa. Puoi provare di nuovo? Adesso! Ma... Io ho già aiutato abbastanza. Io non so, qua sono i piani di Dio per te. Non so che fa Dio, non so. Ma lei deve aiutarmi! Va bene. Parliamo. Ma lei deve aiutato a fare un po' di Dio per me, ma lei deve aiutato a fare un po' di Dio per me, ma lei deve aiutato a fare un po' di Dio per me. star no potto armi. Ma lei deve aiutati a fare un po' di Dio per me, ma lei deve aiutato a fare un po' di Dio per me. impressions? Comeğan al Legaletto. Grazie a tutti! challenge!